Ciao a tutti, io sono Matteo Magnin e oggi siamo qui a Masserano per la seconda prova di ICC Piemonte Cup. Qui è la partenza, adesso ci sarà una bella rampa e poi il primo passaggio tecnico, abbastanza complesso. E vedremo come si potrà fare. Primo numero. Primo numero. Primo numero. Primo numero. Primo numero. Allora 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 Sì Rua stretta Sì 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 Una pietraia Parabolica e saltini Molto figo Sì 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 Avviciniamo per l'ultima parte Svolta sinistra, salita, bella e dritta. Svolta sinistra, salita e dritta. Svolta sinistra, salita e dritta. Svolta sinistra, salita e dritta. Qui, altro passaggio tecnico. Svolta sinistra, salita e dritta. Svolta sinistra, salita e dritta. Svolta sinistra, salita e dritta. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Noto intrusive Ultimo strap Discesa e arrivo Noto intrusive Noto intrusive Noto intrusive Noto intrusive Noto intrusive Noto intrusive Il giro è lungo circa 3,5 km molto molto duro